Ciao a tutti qui da Marpution da Quattro Entrea, oggi faremo la terza missione di Resident Evil 4 Separate Ways e che dire appunto, iniziamo, let's start ok, missione mia preferita perché è del castello, il castello è il mio capitolo preferito capitolo 3 ok, basta com'è questo effetto fumo che metto metto già la saura di notte sei come Wesker le pantaloni scontro alla matriz qua è figo come prende il cortello non solo per vincere scontri da avvicinati, ma anche per... niente, lasciamo stare non è che gli dice ciao, ah da quanto tempo, no, dice... vabbè, che seccione eh, in effetti eh minchia quante domande lei dice basta, le rotte coglioni flash non l'abbiamo finito di scopare c'è il letto chi è? non è un bel nome una bella nomina poverino poverino è un po' complicata però io siccome ho le armi potenziate non è difficile ah, balestra si vabbè, prendo soltanto un proiettile per essere ordinato per avere proprio la simmetria allora andiamo oh battolo battolo no ah me lo fai scusare la test eh no siccome voglio fare il figo voglio ammazzarlo col cucchia da cerchino vai ammazziamo anche quello, va e muore, no? ma vero il ragno ma vero i pali comunque prendiamola di nuovo a Chicago comunque il mitra non serve un emeritamento e mi domando come mai l'ho tenuta in tutto sto tempo è come un cagnolino a sto ragno ma madame basta basta si storna fucile a pompa non mi serve i proiettili intendo no allora prima diciamo che per aprire il cancello che ci permetterà di uscire dal dal giardino prima dobbiamo uccidere un po' di nemici una volta non può scavalcare certo scavalca e montagne da 10 metri però non riesce a scavalcare un cancello è del rincoglionito est non lo so eccitato fucile vediamo se c'è qualche scatoletta ecco ma mi sembriamo magno invece via con l'acqua non ci sono le magne purtroppo approcci un monaco, infatti lo sbagliate, e che falla, uscire da cecchino? Sì, me lo ricordavo, pistola, non ci faccio più caso, dove cazzo sto andando? Mi sto un po' rincoglionendo, ve lo giuro, Basta, crepa, e basta, fucile, vediamo se ne ho dieci, ne ho nove, vabbè, vabbè, ne ho vada, io vado via, prende soldi a scatto. Poi ancora non arrivano quelli. C'è qualcuno che parla solo? Ah no, c'è qua nel giardino. Ammazziamo pure lui, va, è arrivata la persona. Ah, che cavolo. Capisco che volevi un po' di compagnia, ma tratta... Eh no, ma che palla, va. Mi stupo ammazzare. Basta, lasciatemi proprio. Oh, poverino. Ma, questione tranquilla. Allora, io vado direttamente fuori in pratica, dobbiamo andare là a prendere la clesside. E diciamo che io vado direttamente sul luogo del delitto a prendere la clesside. Oh, che rottura di palle si vanno. Mi dovete credere, incomincio a non sopportare. Non sopporto più le pistole e dei proiettili per pistola e i ragni. No, 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 no. Precisione del caso. Ho ammazzato anche quello lì sotto, sono un grande. Allora, prima di entrare, ammazzatelo direttamente. Se no, vi frega. No, dobbiamo esaminare la porta. Non si apre. Però viene inquadrata la finestra. Ci pensa tre ore dopo. Allora, bomba a mano, non mi serve. L'erba non mi serve. Questo mi serve. Doppietta 9. Dobbiamo ritornare per forza. C'è il calcio dell'arma, però lei lo tiene sotto ascella. Di solito i mitra si tengono, si tiene il calcio nella spalla. Non lo so, è ignorante. Non sa usare le armi. Sa solo maneggiare un certo tipo di armi che non tengo a dire. E basta. Il cattore di coglioni questo stagione. Non si può andare, ve lo dico. Sarebbe troppo bello andare dove è stato già lì. Mi sarebbe piaciuto pure andare. Ottocento, vai. Facciamo strage. Pistola, vediamo. Mitra, non... Tanto sono bene. Inche 150, guarda, proprio. Sono diventato lì, guarda. Guarda. No. Strano che non c'è il calcio. Mi stupisce. E... ecco. Non mi prende... Però non mi prende proprio il calcio. Allora, 1400. Ritorno indietro perché mi sono dimenticato di prendere un piccolo tesoro. Un piccolo tesorino, vabbè. Dovevo andare per forza da quel lato, vabbè. Allora. Dovete andare qua. Mirare qua. E c'è la bottiglia di profumo. Io mi domando. Che cazzo ci fa una bottiglia di profumo lì sotto? Cioè... Capisco di essere forse troppo... Troppo esagerato questi dettagli. Ma sono dettagli che si devono prendere. Oh. Leggiamo qua. Allora. Un dessert a dolci ciglia nere che ci resta. No. Adesso manderebbe proprio un bel dessert. Cazzo, mi ha fatto venire fame? Con il pane inizia il pasto della vita. Che vorrà dire? Che con il pane inizia il pasto della vita. Ma che vuol dire? Ah, boh. Carne per assaporare il tempo rimasto. Carne. Ma che vuol dire? Allora tu sei cretina, non sai neanche cosa è la carne. Ma che vuol dire? Un ultimo bicchiere la bottiglia si rompe. Torniamo nella polvere da cui proveniamo. Che pensiero deprimente. Ma non ha tolto. Comunque carne. Che vuol dire? La carne sai cos'è? E' cretina. Ehm... Siccome non mi piace... Io esco. Chi cazzo è? Ehm... 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 Oh, cazzo. Ehm... Bello che viene convinto, brrrr! e poi fa una figura di merda guarda, sei venuto con tanta convinzione per caso di aver fatto la fine di merda eh, esaminare, chi ci fa un forse di voto qui? Meglio dare un'occhiata alla vicino, bah, che genio c'è una rientranza sul fondo, cazzo è più intelligente Adria che il mio me fosse dipende, non sa manco che cos'è la carne quindi non credo proprio hai inserito il crescito con le colazioni oh, basta, io vado avanti mi rompe coglioni di ammazzagno oh, degli spari e sia un monaco con l'arma no, è lì oh, 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 è lì troia non aiuto il tuo migliore amico il tuo boico non mi ricordo che c'erano tutti sti nemici nella storia principale botolo botolo cavolo mi ero bravo ma vaffanculo sono costretto a usare l'uovo d'oro eh, non mi aspettavo tutti sti nemici non me lo ricordavo eh, col cavolo che mi prende voltura di palle riuscendo di palle erbano eh sì mi piacerebbe prendere il pazzù visto che Ada non lo usa mai usa altri tipi di pazzù scacchiere elegante chiede al monaco se vuole fare una partitina cazzo cioè, io mi ricordo che non ci ho messo tutto sto tempo per finire con la parte con lì rottura di coglione vaffanculo no, grazie, mi sembrava uno spinello mi ha fatto male in Italia ovunque è finito, vediamo sto video ah no, grazie, mi sembra che c'è il video ma c'è Ashley, ma noi non possiamo fare niente perchè Ada è me n'è felice no, grazie I got it grazie no, grazie no, grazie questa scena la conosciamo tutto ma, grazie oh, io ho detto di serbo no, grazie no, grazie aia fa male scena che fa pensare male scena che fa pensare male cazzo cazzo ma il play che significa? ma il play ma il play cazzo 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 shi e va bene che dire abbiamo finito anche di questa missione, per dire ci vediamo alla prossima missione che sarà la penultima, ciao a tutti!